Oggi torniamo su un argomento che sono i gruppi Facebook, ne abbiamo trattato già due volte e questa è la terza, questa volta ne parliamo perché c'è stata una serie di scambi di email e di messaggi tra voi e me relativamente a un argomento che per voi è annoso, ovvero quei gruppi Facebook dedicati a marchi dietro cui si nascondono operatori del settore camper, caravan, campeggio, ma guardate che questo ragionamento vale per tutti i settori, cioè può valere, non vale, perché in alcuni settori le aziende sono serie e quando vedono una cosa del genere partono le azioni legali. Cosa succede? Che alcuni operatori si nascondono, no? Si aprono il gruppo dedicato a un marchio, ma sono loro che lo gestiscono, o loro direttamente o tramite il classico cliente che si accontenta della 50 euro del sorrisino e intanto gli fa il lavoro. Ma in qualsiasi caso si capisce allontano un miglio che sono gruppi, così come chi mi ha scritto lo ha notato ed è per questo che mi sono citato, che sono gruppi che dietro hanno un operatore, non hanno dietro l'azienda, la casa madre, ma hanno dietro un qualcuno che si mette lì e fa. Perché questo? Perché si vede benissimo, ragazzi, ma si notano meglio, i toni sono wow, fantastico, meraviglioso, ogni volta wow, eccezionale, cioè roba che uno dice ma si è preso la cocaina? No, è perché pensi di guadagnarci. Allora, ricordiamoci che per ogni cliente che si prende, si acquisisce tramite un gruppo Facebook nascosto, cioè dietro cui non è chiaro chi è che tira le redini o le redini sono tirate da un operatore commerciale, si perdono 12 clienti che scappano, fuggono, perché sentono puzza di bruciato. Allora è questa la regola, la regola è semplice, chiarezza, onestà, pulizia, trasparenza. Questa è la regola che vale sul web, venite sgamati sempre, sempre venite sgamati, ma nel cervellino non entra, venite sgamati sempre e non solo venite sgamati, ma mettete davanti un marchio per poi far perdere clienti a quel marchio lì. E questa è una cosa che è veramente deleteria, cioè è ingiusta nei confronti di quel marchio, è ingiusta qualunque marchio sia. Nessuna azienda, nessun costruttore può permettersi o dovrebbe permettersi di vedere delle sceneggiate del genere, perché si vede lontano un miglio che dietro c'è qualcosa. Calma, rilassiamoci e soprattutto impariamo a usare in maniera corretta internet, anche perché ricordatevi che poi il cliente, quei 12 che fate perdere a quel marchio per colpa della vostra improvvisazione, cosa pensano? Pensano, ah bene, se questo operatore commerciale raggiunge questi obiettivi, cioè si opera in maniera falsa qui, chissà che cosa fa a casa sua. E in effetti diamo il torno. Ciao.